Partiranno a fine mese degli interventi molto importanti per 100.000 euro qui al Palasport Cercolani di Lucrezia, dei lavori che consistono nel rifacimento integrale della copertura, nella sostituzione della guaina e anche nell'allestimento di tutta una serie di ancoraggi molto importanti. Tra l'altro un intervento che tiene anche conto della futura e prossima possibilità di produzione di energia rinnovabile necessaria al funzionamento dell'impianto attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici. Un intervento devo dire molto molto atteso da tutti i ragazzi e dalla società sportiva che frequentano questo impianto abitualmente, una società sportiva che ricordiamo essere un esempio sul panorama sportivo nazionale dal momento che milita nel campionato di serie B2 e l'altra cosa da aggiungere è che grazie anche alla concertazione che c'è stata tra la direzione dei lavori e la società e l'amministrazione comunale riusciremo anche a realizzare questo tipo di intervento senza stoppare l'attività sportiva di APAV.